Più che di processo educativo però mi piacerebbe parlare di programmi educativi perché il processo io lo intenderei come qualcosa di più tecnico che nasce dall'aver deciso dei programmi. Mentre queste consapevolezze come dicevo nascono dalla gente comune, non sempre diciamo questa esigenza di capire qualcosa di più di queste tematiche ambientali trova riscontro nei programmi educativi. Ecco perché non parlerei francamente quantomeno in prima battuta di processi ma di programmi. Poi a seguire sicuramente ci saranno dei processi educativi che dovranno essere strutturati in modo tale da cercare di coinvolgere i vari stakeholders se parliamo di aziende piuttosto che componenti di sodalizi se parliamo di associazioni che si occupano di tematiche che anche di riflesso possono riguardare questioni ambientali. Grazie. Grazie.